La scuola Cesari apre con un aspetto nuovo perché c'è stato un adeguamento per tutto ciò che sono norme sismiche, la sicurezza, apre con anche una tecnologia specifica perché poi vediamo queste aule che sono assolutamente il ritrovato della tecnologia. C'è grandissima attesa e questo cosa simboleggia per Chieti? Intanto simboleggia un buon amministrare. In due anni e mezzo siamo stati in grado di riconsegnare alla città una scuola di oltre 4.000 metri quadrati in pieno centro storico, recuperata ed adeguata sismicamente, assolutamente sicura dalla struttura sino al minimo particolare per renderla non solo accessibile per i bambini ma soprattutto molto sicura per i bambini e fruibile. E poi è arricchita oltre che dallo straordinario patrimonio umano rappresentato dal corpo docente, da coloro che lavorano in questa scuola, anche da innovazioni tecnologiche come le lavagne multimediali presenti in ogni aula. Qui sono stati rifatti tutti gli impianti termici, gli impianti antincendio, gli impianti elettrici. C'è una nuova scala antincendio, tra l'altro molto articolata, ma soprattutto la scuola è dotata di fotovoltaico che chiaramente consentirà uno scambio di energia al risparmio per la scuola. Ma come potete vedere gli ambienti sono curati nei minimi particolari grazie anche a un lavoro di collaborazione col dirigente scolastico e in ultimo questi belli arredi che sono stati forniti in settimana ad un costo di 40.000 euro. La spesa di 2.200.000 euro consente di restituire alla città una scuola di grandi dimensioni. Oggi per realizzare una scuola simile non bastano 7 milioni di euro e ci vogliono 3 ettari di terra. Situazioni di spazio che oggi è impossibile per un'amministrazione trovare. Ad aggiungere sicurezza al grande e qualificato adeguamento dell'edificio ora ci sono ben 16 telecamere posizionate sull'intero perimetro esterno della scuola pronte a monitorare giorno e notte in prevenzione di atti vandalici che più e più volte avevano danneggiato la cesarei nel corso dei lavori di riqualificazione. Come dire a buon intenditor... Grazie. Grazie.